Ciao ragazzi, bentornati, qui il vostro Zool92. Sono arrivati finalmente i Digimon Card Game Premium Pack e questo significa che dopo tantissimo tempo torniamo a sbustare carte Digimon. Cosa sono i Premium Pack? Prima di iniziare a sbustare queste ultime, beh, 20 bustine del Digimon Card Game, vi ricordo di iscrivervi al canale perché a 500 iscritti farò un giveaway per regalare questo, il Promotion Pack 0.0 con le prime, dove sono? Qui, 6 carte promozionali del gioco in questo espositore super figo e, beh, mi piace fare le cose in grande. Un vincitore avrà quello, un vincitore avrà un playset completo da 4 carte. Del Rise Greymon Alternate, quindi, beh, iscrivetevi, cliccate sulla campanella e noi ci spostiamo subito per sbustare queste ultime 20 bustine delle due special release. Allora, ho lasciato solo l'ultimo Premium Pack da aprire, giusto per farvi vedere la scatola, che è comunque molto molto carina con Gallantmon, Omnimon e Imperialdramon. Il Rise Greymon, che tendono a rimanere sempre dentro. Faccio vedere anche lui. Ovviamente la carta è identica al solito a quella della BT2, BT238, ma con quest'artwork veramente figo per un alternate di un alternate, in realtà, per quello che era il mercato giapponese. Detto questo, 20 bustine da aprire. Io direi che andiamo prima con tutte quelle della 1.0, poi con tutte quelle della 1.5. Iniziamo subito, ovviamente, forbici alla mano. Impmon, Agumon Expert, Blastfire, Kabuterimon, Wizardmon, Vegemon, Garurumon, Petermon, Groundramon, Darknessclaw, Soratakenuchi, e Kentauros, Monalternate, che mi mancava. Allora, io ho letteralmente tutte le carte di tutte e tre le prime BT per quanto riguarda le Regular. Mi mancano esclusivamente le Alternate e sono super felice di averne sbustato una così, secca, alla prima bustina, perché è un ottimo, ottimo, ottimo inizio. Ovviamente, per quanto riguarda i doppioni ad alte rarità, invece, le troverete sul mio Shop eBay, nell'arco di un paio di giorni, il tempo di fare le dovute foto e metterle online. Gravity Crash, Cocatorimon, Golden Ripper, Monzaemon, Agumon Expert, Numemon, Chumon, Megadramon, Devimon, Petermon, Symphony No. 1 e Venomiotismon. Ovviamente, non può sempre andare benissimo, perché poi c'è anche un limite. Terza bustina della 1.0. Nuclear Laser, Agurumon, Capurimon, Vilemon, Vinava Blast, Gabumon, Gravity Crash, Growlmon, Breakdramon, Darkmon, Keramon e una nuova coppia di Lilithmon, che purtroppo ho, però non è nemmeno brutta. Quarta bustina Andromon Metal Tyrannomon Boring Storm Liamon Pumpkinmon Ogremon Hornbuster Palmon Freemon Slash Angemon Wargrollmon E un altro Zudomon Di nuovo, tutte le regular le ho, ma queste finiscono tutte in vendita. Tra l'altro non vorrei dire, ma abbiamo sbustato quattro bustine, abbiamo trovato due super rare e una alternate, praticamente queste robe hanno un pull rate migliore dei box. Detto questo, però, procediamo con la quinta bustina, siamo a metà dell'opera, Frigimon, Onbuster, Tsukaimon, Pagumon, Muchomon, Atomic Ray, Graymon, Curasarimon, Curisarimon, perdonatemi, Mega Cabuterimon, Cyberleomon, Yamon e Rastirannomon, di cui ho 200 copie, ma ne aggiungeremo un'altra in vendita. 5 bustine, 3 super rare, una alternate, io boh, perché non sono stati tutti così i box? Sesta bustina Capurimon Agumon Expert Goblimon Agurumon Monodramon Smashered Potatoes Cabuterimon River of Power Labramon Darkmon Mad Dog Fire E Lilimon Allora, ce ne mancano ancora 4 della 1.0 Forbidden Temptation Wizardmon Kudamon Flame Rizamon Numemon Orrbuster Tsukaimon Lauderliomon Groundramon Darknessclaw Togemon E un altro Rastirannomon Ovviamente È quella di cui ne ho più copie, è ancora in vendita, vuoi non continuare a darmene delle altre? Ottava Bustina della 1.0 Night Raid Tsukaimon Piximon Golden Ripper Andromon Capurimon Agumon Gozumon Woodmon Garurumon Terror Cluster Build Zeman Alternate Raga, questa carta stavo per comprarla tipo a un centinaio di euro e mi sono fermato perché no, dai, non lo faccio, faccio il bravo, sto piangendo Sto oggettivamente piangendo Che enorme botta di culo Oggettivamente questa carta mi ripaga tutti i cento euro che ho speso sui premium pack al netto di tutto quello che posso rivendere e di tutto quello che posso trovare Questa carta da sola mi ripaga tutta la spesa di oggi Sono... sto piangendo Cioè oggettivamente è la carta migliore che potessi chiedere di trovare Forse anche più di Omnimon per il valore affettivo che mi lega a Bilzemon Questa carta vale quasi più di un Omnimon alternate Sono... Wow Wow, dico solo wow Sono andato in crash, scusate Zurlex stopped working Vado con la nonna bustina ma... Ma niente È già una vittoria È finita troppo presto la battaglia, è già una vittoria ragazzi Io sono... Sono già a posto così per oggi Possiamo chiudere tutto Io... Io sono a posto Golden Ripper Gorillamon Piximon Cocuamon Spiral Sword Greymon Armadillomon Chiaromon Jagamon Metal Greymon Gabumon E Diaboromon Che comunque anche quella è cassa Ultima bustina della 1.0 Poi facciamo un attimo due conti di com'è andata Ma ovviamente è andata benissimo Però, insomma, facciamo due conti di com'è andata Allora Dolphmon Monzaemon Blade of the True Gabumon Gravity Crush Volcanic Dramon Okuamon Palmon Back for Revenge Jagamon Keramon E Metti Shida Allora, 10 bustine 10 bustine che sono significate Una Due Tre Quattro E cinque Super rare Una Super rara alternate E Una rara segreta alternate Il cui valore Da solo Compensa tutta la spesa di oggi E' bene ribadirlo Perché così mi sento meno in colpa Verso il mio portafogli Quando Mi rendo conto Di quanto valgano queste carte Bene Detto questo Iniziamo subito Con La special release 1.5 Altre 10 bustine Da aprire E niente Io ho finito le parole Vedo giù Quando ho bustato quella carta Io ho finito le parole Mi dovete perdonare Prima bustina della 1.5 Cioè Per battere questa cosa Anche solo a livello monetario Adesso Dobbiamo trovare un omnimon alteresse Alternate Se succede Davvero Penso che Esplodo Arukenimon Gomamon Tankmon Bicyclone Gatomon Sukamon Ikakumon Greymon Edenjavelin Salamon Stingmon E Wormon Mi sembra giusto Molto in linea Non fa una piega Seconda bustina Death Parade Blaster Saber Dramon Clockmon Command Dramon Patamon Garudamon Candlemon Flymon Niaromon We have to stop fighting Scrap Claw Ed Etemon La 1.5 Regala meno gioie Ma Siamo ancora all'inizio Terza bustina Vedo una piccola gioia Sullo sfondo Ma aspettiamo Command Dramon Cunemon Patamon Cherry Blast Sidramon Sidramon Armadillomon Angemon Puppet Pammel Argomon Goldramon Durandamon E Ceresmon Ceresmon che è la nostra prima super rara Per quanto riguarda la 1.5 Quarta bustina Bicyclone Giromon Clockmon Candlemon Saber Dramon Meramon Death Parade Blaster Gigimon Ankylomon Hidden Potential Discovered Vimon E Imperial Dramon Dragon Mode Che è sempre Sempre Bello È tipo la quarta copia che ho Ma È sempre Sempre Bello Seconda super rara Anche per la 1.5 Ancora una volta Dimostriamo che questi Queste bustine Hanno un pull Esagerato Che comunque Sono 20 bustine Ho già trovato più di quello che trovo in un box Agumon Plasma Stake Mammimon Aquilamon Psichemon Tialudomon Aruramon Gururumon Gururumon Ankylomon Poromon Peldramon E un forsuidramon Siamo a 5 bustine 3 super rare Cazzo via Andiamo avanti con la sesta bustina Magni Angemon Agumon Megasidramon Angeuomon Rapidmon Arctic Blizzard Docugumon Vaikmon Adelicate Plan Goldramon Metal Mamemon E Rinascinomia E Rinascinomiglia Ovviamente Non è che poi possiamo pretendere davvero troppo Settima bustina È andata comunque benissimo così Ribadisco Qualunque cosa si trovi Ma A questo punto Vediamo se facciamo il botto definitivo Megasidramon Raijiludomon Agumon Saikmon Aruramon Lavorvomon Orvomon Arctic Blizzard Demimera Terriermon Gururumon Shakumon Ragnalordmon Alternate Che comunque È un'altra alternate E siamo a 3 super rare Una alternate Anche Per la 1.5 Altre 3 bustine Da aprire Tankmon Garudamon Antilamon Tialudomon Gomamon Odincrasher Oakmon Poromon Valkyrimon Zubamon Durandamon E Peldamon Penultima bustina E poi ci toccherà Aspettare la BT4 Gatomon Aruramon Necrofobia Turiamon Raijiludamon Raijiludamon Gomamon Jogreimon Gururumon Poromon Valkyrimon Kenijizo Ichijoji E Malomiotismon Ultima bustina Ultima chance Di avere Un'altra Enorme gioia Vorvomon Shamamon Holywave Jewelbimon Argomon Vimon Positron Laser Zubamon Demidemon Lopmon Salamon E un altro Ragnalormon Normale Sono 4 super rare E una alternate Anche Per la Per la 1.5 Il pull Di questi Pacchetti E' stato Esagerato Vi ricordo che abbiamo aperto 20 bustine Sono 5 5 6 7 8 9 10 11 E 12 Su 20 bustine E' una roba Meravigliosa Siamo andati Siamo andati davvero benissimo Anche senza contare Quanto quel Buildzee Mon Alternate Possa valere E possa Emozionarmi Personalmente Come Carta Mi sposto un secondo E Eccomi qui Allora Sono super contento Lo avete capito Sono Rimasto letteralmente Senza parole E Sono entusiasta Per com'è andata Sono entusiasta Perché ho trovato Ottime carte Sono entusiasta Perché ho trovato Buildzee Mon Sono contento Perché avevo preso Questi pacchetti Come Ultima chance Prima di Di concludere Questa esperienza Delle special release Ed approcciarmi Alla BT4 Ma davvero Non pensavo Potesse andare così bene Sono Sono rimasto Davvero Sorpreso Perché mi aspettavo Di trovare Una Due super rare Ne ho trovate 11 Poi ho trovato Una rara segreta Alternate E' stato Davvero Un Un unboxing Meraviglioso Vi ricordo Nuovamente Di iscrivervi Al canale Perché appena Tocchiamo i 500 Attivo il giveaway Di cliccare Sulla campanella Per sapere Quando usciranno I prossimi video Come al solito Lasciate un like Per aiutarmi a crescere Commentate qui sotto Con quella che può essere La vostra carta preferita Come per me Buildzee Mon O in generale Con Quali sono le carte Più belle Che avete visto oggi Prestissimo Arriviamo con la BT4 Ribadisco Le carte dovrebbero essere Disponibili in pre-release Il 4 di giugno Quindi Tra il 4 E il 6 Spero davvero Di iniziare subito A parlare Anche di questa Nuova espansione Perché non vedo l'ora Di vederla Ci sono tantissime Carte super fighe Ho prenotato Una marea Di carte Quindi abbiamo sicuramente Tantissimo Da dire Ragazzi Per oggi è veramente tutto Spero di avervi fatto compagnia Alla prossima Spero di avervi fatto compagnia